Presidente, se mi permette devo fare una dichiarazione di voto a titolo personale in dissenso dal gruppo e spiego le ragioni, perché dal mio punto di vista, dal punto di vista procedurale e del metodo, questo decreto non deve essere nemmeno votato. E adesso ve lo spiego, perché il Presidente Damiano, il Presidente di Commissione Lavoro, ha violato il regolamento, questa, che non è carta da culo, che è l'articolo 51. Si esprima in un modo propriato, si esprima. Va bene. Va bene. Però, no, mi faccia terminale per cortesia, devo concludere le mie ragioni. Concluda. Noi abbiamo chiesto voto nominale in Commissione, come è previsto dal regolamento, abbiamo chiesto le riprese web e non sono state concesse, e cosa hanno fatto gli uffici, i sedicenti uffici, che dietro gli uffici ci sono delle persone, ci hanno fornito dei precedenti e delle motivazioni antecedenti al regolamento della Camera che è dal 1971. La ringrazio, grazie. È terminato il tempo. Allora, chi altri? Deputata Binetti, prego, se è in merito alla votazione, la prego.